Gloria a Dio, gloria a Dio. Fratelli, vogliate pregare per me in questa mattina, perché io desidero che il Signore mi usi per edificare il suo popolo, la sua Chiesa. Gloria a Dio, ricordiamoci sempre che la Chiesa è del Signore. Il testo si trova in secondo cronache, capitolo 15, dal versetto 1. Gloria a Dio. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse e senza legge. Ma nella sua angoscia egli si è convertito al Signore, Dio di Israele l'ha cercato ed egli si è lasciato trovare da Lui. In quel tempo non c'era pace, né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi agitazioni. Ed essi erano schiacciati nazione da nazione, città da città, perché Dio li agitava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Bellissime parole. Quando Asa ebbe udite queste parole nella profezia del profeta Oded, prese coraggio e fece sparire le abominazioni da tutto il paese di Giuda. Andiamo avanti al versetto 15 Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro, e il Signore diede loro pace lungo i loro confini. Gloria al nome santo del Signore. Questo re, Asa, occupò il trono davidico per 41 anni e fu, diciamo, in linea di massima, un buon re. Anche se gli ultimi anni, insomma, deviò dalla parola del Signore, commise degli errori, dei peccati. Però noi non vogliamo parlare di quello adesso. Nel versetto, nel capitolo precedente, lo leggerò io, secondo cronache, capitolo 14, versetto 1, è scritto che Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore. Al versetto 5 dice, egli costruì delle città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo e in quegli anni non c'era nessuna guerra contro di lui, perché il Signore gli aveva dato riposo. Anche se poi all'improvviso venne attaccato da un esercito potentissimo, ma Asa si comportò bene, perché nonostante questo esercito era molto, molto forte, molto numeroso, fece una preghiera a Dio, ve lo sto dicendo io per accorciare un po' i tempi, e dice, Signore per te non c'è differenza, se siamo tanti o siamo pochi, sei tu che dai la vittoria. E il Signore gli diede questa grande vittoria. Ed è molto bello, fratelli e sorelle, ritornando al nostro testo, quando il Dio manda, a un certo momento della storia di questo re, manda il suo profeta. Manda la sua parola. Fratelli, quando il Signore manda la sua parola, noi dobbiamo ascoltarla. Anche se a volte questa parola arriva da strumenti magari poco considerati, che noi non gli diamo importanza, ma l'esperienza mi ha insegnato, e questo lo sto imparando in questi ultimi tempi, di ascoltare ogni cosa, ogni fratello, ogni sorella, e come dice la parola, ritenere il bene. Gloria al Signore. E avere sempre un cuore umile che ci aiuti in questo, fratelli, ad ascoltare sempre chi è davanti a noi. Mai a guardare dall'alto in basso, ma ad avere un atteggiamento di santa umiltà, perché così ci ha insegnato il Signore. Andiamo al versetto 3. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché si erano impegnati fortemente ad avvicinarsi al Signore. Pensate che Asa addirittura ha destituito sua mamma, perché aveva fatto dell'idolatria, anche lei. E al versetto 3 c'è una cosa importante che vorrei sottolineare insieme con voi. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse e senza legge. Attenzione, perché sta parlando del popolo di Dio. Non sta parlando di persone incredule, sta parlando, oggi diremo, a dei credenti. Il Signore si sta rivolgendo al suo popolo, ed è importante notare questo. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio. Questa affermazione, come la sento io nel cuore, significa che questo popolo è stato per lungo tempo senza la presenza del Signore. Senza la guida del Signore. E' come se noi oggi potremmo dire, la Chiesa, non lo diciamo, è un esempio, questa Chiesa non c'è la presenza di Dio, non c'è la guida dello Spirito Santo. Ecco, questa è l'affermazione. In lungo tempo Israele è stato senza vero Dio. Vedete, fratelli e sorelle, dobbiamo continuare a cercare, come è stato detto anche nella testimonianza, in preghiera, la manifestazione dello Spirito Santo. Perché la Chiesa è questo. La Chiesa, scusate queste affermazioni, ma non riguardano voi, sono degli esempi. La Chiesa non è un club. La Chiesa, parlo quella del Signore, non è un luogo dove si va solo per incontrarci in modo formale. Noi veniamo qui per incontrare i nostri fratelli perché li amiamo e glielo dimostriamo, almeno cerchiamo di dimostrarglielo, con quello che possiamo, insomma. Ma veniamo qui per cercare la presenza di Dio. La Chiesa è un luogo particolare, ma diventa particolare quando ci sono dei credenti che si impegnano in questo, che cercano la presenza di Dio, che pregano, che procacciano i doni spirituali. Altrimenti diventa un luogo come un altro, dove si viene qui, ci si incontra e poi pace pace e tutti a casa. Ma non funziona così, fratelli e sorelle. La Chiesa è molto di più. Oggi ci sono, vedendo tante cose che accadono intorno a noi, tante riunioni e succede qualcosa, fratelli. Quando non c'è la manifestazione dello Spirito Santo, ecco che l'ingegno dell'uomo ci si ingegna. Cominciamo, sapete, l'uomo è molto abile in queste cose, a cercare di imitare l'opera dello Spirito Santo, cioè cercare di far vedere che ci sono guarigioni, liberazioni, battesimi, miracoli, persone che cadono a terra. Allora, addirittura ho visto, due volte, credo, su Facebook, una ripresa di una persona che loro dicono che è risuscitata. Tutto in ripresa, tutto spettacolo. Vedete, la Chiesa, non quella del Signore, si sta sempre trasformando di più in un luogo di intrattenimento, dove c'è lo spettacolo di far cadere le persone per terra. Siamo diventati abili a sostituire l'opera dello Spirito Santo, quella genuina. E quando questo accade, fratelli, lo Spirito si ritira. E quando facciamo noi, lo Spirito, qualcuno ha detto che è una colomba, è gentile, vola via. Questo è un nostro modo di parlare, poi noi non conosciamo bene lo Spirito Santo, noi parliamo così. Ed è importante, fratelli e sorelle, valutare bene, ma anche noi, come dicevamo prima, dobbiamo stare attenti ad avere veramente la presenza di Dio nella nostra vita, il suo discernimento, i suoi pensieri, i suoi desideri, la sua volontà in noi. Diceva Paolo, e racchiudo un po' tutto, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Dobbiamo arrivare a questo, fratelli e sorelle. E il Signore ci aiuterà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, quindi senza la presenza di Dio, senza sacerdote che lo istruisse. Il culto levitico era stato sostituito dal culto idolatrico. Pensate, il popolo del Signore, pensate che corruzione. Ma è quello che noi vediamo tutti i giorni, fratelli, davanti ai nostri occhi. Quanta idolatria c'è, fratelli e sorelle. Il culto alle immagini, il culto agli idoli, le icone e cose varie. Ma, fratelli, attenzione, perché l'idolatria non è solo questa. L'idolatria è quando noi mettiamo al primo posto delle cose al di sopra di Dio. E anche noi stessi. Noi possiamo avere un culto idolatrico anche su noi stessi, fratelli. Cioè che ci riteniamo così al di sopra di tutto e di tutti. Quella è idolatria, fratelli e sorelle. Attenzione. Purtroppo ha diverse sfaccettature questo peccato terrificante dell'idolatria. E dobbiamo vegliare anche su noi stessi, fratelli e sorelle. Quindi un popolo privo della presenza del Signore, mancanza di sacerdoti, mancanza di pastori, mancanza di conduttori, di persone che appunto in qualche modo potevano riprenderli. Ma non solo non c'erano questi, c'erano anche dei falsi profeti all'epoca. Voglio leggervelo brevemente in Geremia, capitolo 23, dal versetto 14. Sentite cosa dice il Signore. Geremia, capitolo 23, versetto 14. Ma in mezzo ai profeti di Gerusalemme, è il Signore che parla, attenzione, ho visto cose nefande. Commettono adulteri, agiscono con ipocrisia, rafforzano la mano dei malfattori al punto che nessuno si converte dalla sua malvagità. Tutti quanti per me sono come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme, quelli di Gomorra. Perciò così parla il Signore degli eserciti riguardo ai profeti. Ecco, io farò loro mangiare assenzio e farò loro bere acqua avvelenata perché dai profeti di Gerusalemme l'empietà si è sparsa per tutto il paese. Così parla il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano e vi nutrono di cose vane, vi espongono le visioni del proprio cuore. Non ascoltate coloro che si definiscono profeti, dottori, che vi portano fuori dalla dottrina. Pensate il Signore che cosa sta dicendo. Fratelli, anche noi oggi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che sentiamo e tutto quello che ci viene detto. Oggi ci sono persone che si improvvisano apostoli, profeti, e ne parlano, dicono, hanno delle folle che li ascoltano. Negli ultimi giorni sarà così. Ci saranno profeti che diranno cose vane, diranno il Cristo è qui, eccolo qui, eccolo là. Quello magari si verificherà nella grande tribolazione, ma ci sarà un inizio di tutte queste cose. La Babilonia spirituale che noi oggi stiamo vivendo ci parla del ritorno di Gesù. Gesù sta per tornare, fratelli. L'apostasia, questa è l'apostasia, fratelli. Un allontanamento dalla sana dottrina. Hanno visioni, hanno cose, il popolo gli va appresso. Comunque, questi profeti, e quelli di oggi, hanno una grande responsabilità davanti al Signore. Noi dobbiamo rimanere attaccati a questa parola, perché, come dice lo scrittore, è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Gloria al Signore. Ci sono tanti ciarlatani, fratelli e sorelle. Stiamo attenti. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote e senza legge. Il problema del popolo del Signore è proprio questo, e dei non credenti, è che non si legge la Bibbia, non si va alla fonte, a leggere veramente le cose come stanno. Però, nonostante tutto, questo popolo, alla fine, grazie anche a questo buon re, erano ritornati al Signore. Finalmente avevano debellato tutta quell'idolatria, tutto quella... Dice, ma eravate, sì, stavate nell'angoscia, stavate nelle grandi tribolazioni, perché il Signore stesso aveva permesso queste cose. Sì, hanno sofferto tanto, però alla fine dice che nella loro angoscia hanno deciso di tornare al Signore, e il Signore l'ha benedetti. Perché, fratelli e sorelle, come spesso diciamo, il Signore non ragiona come noi. Adesso hai sbagliato tante volte, hai commesso tanti peccati, io non ti voglio più, il Dio non ragiona così. Fratelli, e meno male, se no non stavamo qua. Gloria al Signore. Ma voi siate forti. Non vi lasciate indebolire le braccia. In un'altra parola sta dicendo, tu hai iniziato a cercarmi, sei tornato a me, non ti stancare, continua a pregarmi, continua a cercarmi. Questo voleva dire il Signore al suo popolo. Cioè, non ti indebolire, non mollare, come ha detto la sorella in preghiera, non dobbiamo mollare. Concedetemi questo modo di parlare. Non dobbiamo cedere, perché il Signore ci benedirà e ci porterà con Lui e staremo per sempre col Signore. Non vogliamo perdere questa opportunità. E se tu hai deciso di tornare al Signore, non ti fermare, vai avanti, perché il Signore ti sta aspettando. Egli ti vuole benedire, ristabilire. Gloria al nome santo del Signore. Dobbiamo solamente, con l'aiuto dello Spirito Santo, demolire tutto quello che abbiamo costruito. Questa è un'opera che la dobbiamo fare. Che cosa hai costruito fino ad oggi? Quali occupazioni hai preso? Quali interessi hai? Piano piano, con l'aiuto del Signore, come ho fatto io, tante volte, abbandoniamo tutto. Piano piano, con l'aiuto del Signore, cominciamo a togliere tutte quelle cose che il Signore non gradisce. Questo significa tornare al Signore, ricostruire l'altare della preghiera, se è stato demolito. Dice che significa ricostruire l'altare? Ricomincia a pregare. Non solo quando vieni in chiesa, ma principalmente quando stai a casa, apri il tuo cuore al Signore, l'inizio potrebbe essere un minuto, poi diventeranno due, poi cinque, poi dieci, poi quindici, piano piano il Signore ti darà la forza, ma riprendi a pregare il Signore, a casa, tu e Lui. Vedete, il Signore non gradisce i mistificatori, gli ingannatori. Noi non dobbiamo ingannare il Signore e neanche i fratelli, dobbiamo essere schietti, sinceri, così come siamo, trasparenti. Il Signore ci deve aiutare a diventare sempre più trasparenti. L'ambiguità, i comportamenti doppi, non fanno parte del vero credente, però purtroppo fanno parte della nostra natura. Quindi piano piano dobbiamo abbandonarli, questi atteggiamenti, dobbiamo smetterla di manifestare quello che non abbiamo. Perché a volte c'è l'ostentazione, ma non parlo, ripeto, di voi, e poi vado alla conclusione, da parte di credenti, anche battezzati dello Spirito Santo, di manifestare qualcosa che in realtà non hanno. Ci sono dei doni. Un fratello giustamente mi ha fatto una domanda, dice, ma io come funzionano i doni, le lingue? Per poter dare un messaggio in Chiesa non è sufficiente il battesimo nello Spirito Santo, ma serve il dono delle lingue. Altrimenti ciascuno parli a se stesso e a Dio, dice l'Apostolo Paolo, se non c'è chi interpreti. I doni non siamo noi a forzarli, ma è lo Spirito che li distribuisce a ciascuno come egli vuole. Eh, ma io parto per fede. No, tu non parti per fede. Tu parti per fede quando lo Spirito te lo fa sentire. Allora sì che devi partire per fede. Non funziona all'opposto. Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Se noi ci impegniamo a sottometterci allo Spirito di Dio, noi vedremo la sua gloria. Ma voi siate forti. Se lo cercate, Egli si farà trovare. E voglio concludere, fratelli e sorelle, qualcuno ha detto questa nazione ha bisogno di guarigione. Certo, se noi ci impegniamo, il Signore sicuramente guarirà il suo popolo, ma dobbiamo convertirci. Dobbiamo ogni giorno convertirci e riconvertirci al Signore. Lasciatemi parlare, ripeto, in questo modo. E concludo con Secondo Cronache, capitolo 7, versetto 14, che tutti conoscete benissimo questo testo. Però lo voglio leggere. Sentite che bello. È Dio che parla al suo popolo e a noi. Secondo Cronache 7, 14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, e già queste parole mettono timore, fratelli, si umilia, prega, cerca la mia faccia, e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esatuirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare? Alleluia! E guarirò il paese. Non sta parlando dei non credenti, sta parlando della sua Chiesa. Se quel popolo, se quella Chiesa, se quelle Chiese si umiliano, si convertono, veramente, al Signore, Dio risponderà, manderà un risveglio, guarirà questo paese. Abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Alleluia! Gloria al Signore! Continuiamo a cercarlo con tutto il cuore, continuiamo a invocare il suo nome, umiliamoci davanti a Lui, umiliamoci gli uni gli altri, e noi vedremo la gloria di Dio. Alleluia!